Ormai Xiaomi la conosciamo, è solita presentare degli smartphone davvero ottimi ad un prezzo super contenuto. Questo che vi mostro oggi potrebbe essere il suo miglior smartphone per quanto riguarda la categoria Best Buy. Parliamo di Xiaomi Mi 8 Lite. Scopriamolo dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti finalmente in questo nuovo video. Sono sempre io Luca Crocco e oggi vi parlo di questo Xiaomi Mi 8 Lite. Abbiamo già recensito il fratello maggiore, Xiaomi Mi 8, ma in questo caso non stiamo assolutamente parlando di un top di gamma. Anche il prezzo infatti non è da top di gamma, ma le prestazioni direbbero il contrario. Vi anticipo già che questo smartphone ragazzi mi è piaciuto da morire sia per quanto riguarda l'estetica, i materiali, lo schermo e praticamente tutto. Se devo dare un giudizio a questo telefono direi quasi perfetto. Peccato però per un difetto che io non ho assolutamente mandato giù. Per scoprire qual è, seguite tutta la recensione. La scatola del Mi 8 Lite è molto particolare con questi colori accesi che sfumano dal viola al rosso. All'interno del box di vendita troviamo ovviamente lo smartphone, l'alimentatore, 5W 2A, cavo di ricarica e trasferimento dati USB Type-C e una cover in silicone morbido color fumé. Ragazzi ci tengo a precisare che la cover è in questo color fumé perché lo smartphone è nella colorazione nera. Se lo smartphone fosse stato nella bellissima colorazione blu la cover sarebbe stata trasparente. E se volete acquistare questo smartphone ragazzi, nero si è molto bello, molto elegante, però io vi consiglio la versione blu perché è proprio bellissima rispetto a questa, sta 4, 5, 6 spanne sopra. Continuando troviamo il pin per la rimozione della sim, i soliti manualetti inutili e il dongle da USB Type-C a jack 3,5 mm. Perché sì ragazzi, questo Mi 8 Lite purtroppo non ha l'ingresso jack per le cuffie. Ragazzi questo a primo impatto non sembra assolutamente uno smartphone economico, Anzi, il retro in vetro è davvero bellissimo, anche se nella colorazione nera non rende a dovere. Anche se i giochi di luce che regala la back cover sono davvero molto particolari e fanno sembrare questo smartphone davvero un top di gamma. Non ho capito se il frame di questo smartphone sia in alluminio o in plastica, fatto sta che si sposa benissimo con il retro in vetro del telefono. Comunque il profilo del telefono è molto molto sottile che lo rende abbastanza semplice da utilizzare con una sola mano. Sul retro abbiamo una doppia fotocamera orizzontale con flash LED. Il modulo fotografico non è troppo invasivo specialmente in questa versione nera. Al centro della back cover abbiamo il sensore di impianti digitali e infine il logo Xiaomi super riflettente. Sul lato sinistro abbiamo il carrello delle SIM in grado di ospitare due SIM in formato nano oppure una SIM ed una scheda micro SD per l'espansione della memoria con supporto fino a 256 GB. Sulla destra sono presenti il bilanciere del volume e il tasto power, mentre sul profilo superiore troviamo solo il secondo microfono per la riduzione dei rumori ambientali. Sul fondo, infine, è presente una doppia gridia simmetrica e l'ingresso Type-C. Nella parte frontale troviamo un display molto ampio con bordi super ottimizzati e un notch che mi ha creato qualche piccolo problema, ma vedremo più tardi. Il display dello Xiaomi Mi 8 Lite è un pannello da 6.26 pollici di tipo IPS LCD in formato 19.9. Pur essendo IPS, i neri riprodotti dallo smartphone sono davvero molto buoni. Non assoluti come un display AMOLED, ma comunque nell'utilizzo di tutti i giorni non vedrete questa differenza. Però, essendo un LCD, avrete una luminosità del display davvero incredibile e questo lo rende praticamente visibile sotto ogni condizione di luce. Voglio subito togliermi questo dente per il noto, ragazzi. Come ho detto prima, il Mi 8 Lite ha il notch. Nella stragrande maggioranza di smartphone che ho provati, il notch non mi ha mai dato fastidio. In questo Mi 8 Lite, però, purtroppo sì. Perché? Perché purtroppo non ci dà la possibilità di vedere le notifiche sulla barra appunto delle notifiche. E non capisco il perché, dato che c'è spazio a destra del notch per utilizzare le notifiche. Eppure, non so, spero veramente che questa cosa venga risolta via software, perché per me è un problema grandissimo. L'unico modo per controllare le notifiche, ragazzi, è dalla schermata di blocco oppure abbassando la tendina delle notifiche o ancora andare a cercare nelle pagine del nostro smartphone i pallini rossi sopra le applicazioni che ci avvertono che su quell'applicazione c'è una notifica. Ma, ripeto, per me questa cosa è davvero scomodissima. Avrei preferito avere delle classiche concine delle notifiche appunto sulla barra. Xiaomi Mi 8 Lite ha una scheratecnica nella media per la fascia di prezzo a cui appartiene. Stiamo parlando di un processore Qualcomm Snapdragon 660 con una GPU Adreno 512 e ben 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. Questa adozione hardware consente allo smartphone di girare senza alcun problema. Le prestazioni, ragazzi, secondo me sono quasi da top di gamma. Infatti questo Mi 8 Lite, sotto il punto di vista delle prestazioni, mi è davvero colpito. Non ho mai trovato un impuntamento o un lag. Per quanto riguarda le connessioni, è presente il Wi-Fi a banda 2.4 o 5 GHz. È presente ovviamente anche il GPS, il Bluetooth 5.0. E come il fratellino minore Mi 8 Lite, di quale abbiamo già fatto la recensione, manca l'NFC. Quindi, anche in questo caso, purtroppo, niente Google Pay. Sapete sicuramente la ricezione è un punto a cui tengo particolarmente e mi soffermo sempre molto perché a casa mia non prendono molto gli smartphone. Ho Iliad come operatore principale per proprio spremere al massimo questi smartphone e devo dire che non ho avuto nessun problema. Questo smartphone, secondo me, prende anche meglio del Mi 8 Lite, il che... Davvero, niente male. Anche durante le telefonate non ho avuto mai il minimo problema. La linea è sempre precisa, non ho avuto interruzioni di linea, cadute di chiamate strane. Ho sentito sempre perfettamente tutto quello che chi sta dall'altra parte diceva e, idem, chi ascoltava le mie chiamate diceva che sentiva sempre tutto alla perfezione. Quindi, sotto il punto di vista connettività e chiamate, davvero molto bene. Promosso. Anche lato gaming, nessun problema. Ancora test grazie ad Asphalt 9. E questo gioco gira senza nessun impuntamento sullo Xiaomi Mi 8 Lite. Qui va sempre tutto fluido, non scalda troppo durante la sessione di gaming e, anche grazie a questo bel display, mi sono divertito davvero tanto a giocare ad Asphalt 9. Parlando del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posso soltanto che esprimere un giudizio positivo, ragazzi. Per me, qui sul retro, al centro del telefono, è la posizione più comoda in assoluto. Utilizzo tutti i giorni il mio OnePlus 6T con sensore di impronte in display e io però continuo a preferire questo sotto, questo, scusatemi, questo sul retro. È sempre preciso, affidabile, non sbaglia mai un colpo e quando si impugna lo smartphone il dito casca sempre perfettamente lì. Il software di questo momento è basato sulla MIUI 9 globale che sarà presto aggiornabile alla MIUI 10. L'interfaccia utente di Xiaomi è tra le mie preferite, snella, pulita e particolarmente concentrata sui piccoli dettagli come ad esempio l'apparizione del piccolo flash sull'icona di Instagram quando usciamo dall'applicazione. Android è in versione 8.1, è presente a lingua italiana. Il Play Store, dunque, è uno smartphone utilizzabile nel nostro paese così com'è, senza dover sbloccare il bootloader o chiedere permessi di root. Il sistema radio si muove bene, è personalizzabile ed integra le solide amate funzioni viste già sulla MIUI, come ad esempio la possibilità di utilizzare due account diversi per ogni sim oppure creare un secondo spazio di memoria per un secondo utente. Ovviamente sono presenti anche le gesture per godere al massimo di questo bellissimo schermo, ragazzi. è possibile tornare indietro con uno swipe da destra verso sinistra qui sul lato del telefono oppure dalla parte bassa del telefono se scorriamo verso l'alto torniamo alla home se facciamo la stessa gesture ma bloccandoci al centro del display verrà aperto il multitasking e così via. C'è anche la possibilità di nascondere il notch qualora questo non dovesse piacervi ma vi anticipo già che se pensate di ovviare così al problema delle notifiche che non vengono viste sulla barra, beh, vi sbagliate di grosso. Ho provato, ci ho sperato, avrei nascosto il notch se mi avesse dato la possibilità di visualizzare le icone nella barra di stato ma così non è stata. Perdonate il gioco di parole. La fotocamera principale dello Xiaomi Mi 8 Lite è un doppio modulo da 12 più 5 megapixel nella quale il secondo sensore serve a gestire la profondità di campo quindi potremmo soffrire della modalità di tratto. Ottima quando ci troviamo in condizioni di luci favorevoli anche se a volte non riesce a scontornare bene i capelli o foglie. Il sensore da 12 megapixel invece è un teleobiettivo che regala degli scatti davvero davvero buoni anche con poca luce. L'HDR funziona bene e l'interfaccia della fotocamera è semplice e non offre particolari funzioni esclusive. La fotocamera frontale invece ragazzi mi è piaciuta da morire è più che soddisfacente per un utilizzo social parliamo di un modulo da 24 megapixel presente anche qui l'effetto bokeh che funziona abbastanza bene e un effetto bellezza. Quest'ultimo ragazzi però è un po' troppo pompato e sinceramente vi consiglio di disattivarlo perché apparirete praticamente di plastica su tutte le foto. Come per la camera principale è presente l'intelligenza artificiale la quale anche qui non interferisce troppo sulla scena. ma la cosa che mi è piaciuta di più ragazzi è stata la resa qualitativa delle foto fatte con la fotocamera selfie di notte. Cioè davvero io non ho mai trovato uno smartphone fino ad oggi che scattasse così bene. Non tanto per la nitrezza delle foto ma quanto per la gestione dei colori. Di solito quando scattavo foto al buio o comunque con pochissima luce o con un'istrata magari con dei lampioni eccetera veniva fuori la classica foto tutta giallastra. Stiamo comunque parlando di una foto scattata di notte quindi è ovvio che i colori prevalenti saranno il giallo e il blu insomma dipende anche dalla scena in cui scattate però davvero la fotocamera frontale mi è piaciuta da morire specialmente nelle ore notturne. Xiaomi Mi 8 Lite ha una batteria da 3550 mAh non è gigante ma comunque lo smartphone porta sempre sempre a sera ragazzi con una buona parte di batteria residua quando lo utilizziamo in un modo abbastanza stressante se invece utilizziamo lo smartphone in un modo blando, tranquillo senza avere non so, GPS sempre attivo, wifi e rete dati sempre attivi contemporaneamente riuscire a coprire anche un giorno e mezzo, quasi due, con una sola ricarica e questa per me è stata davvero una svolta ragazzi ho caricato questo smartphone praticamente ogni giorno e mezzo l'unica piccola pecca che però vabbè possiamo passarci solo dato che la smartphone dura così tanto è che il caricabatteria in confezione non supporta la ricarica rapida infatti per andare dallo 0 al 100% ci vogliono quasi 2 ore, 2 ore 10 Xiaomi Mi 8 Lite ragazzi costa 255€ su Amazon ovviamente il link per l'acquisto diretto lo trovate qua sotto in descrizione questo è uno smartphone super completo ragazzi e potrebbe essere il miglior Best Buy dell'anno se non avesse quel maledettissimo problema con le notifiche io non mi sento di dare a lui la corona di Best Buy dell'anno visto che ormai siamo a dicembre ma preferisco darla al Mi 8 Lite di cui ho fatto la recensione mi sembra la settimana scorsa ovviamente è un giudizio prettamente personale preferisco quello smartphone perché Android One a bordo e perché le notifiche vengono sempre mostrate ma preferisco il Mi 8 Lite per quanto riguarda la fotocamera frontale la ruota della batteria e la qualità costruttiva perché è davvero bellissimo ragazzi io per oggi ho finito spero che questo video vi sia piaciuto io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciare un like per supportare il mio lavoro e lasciare un bel commento qua sotto per dirmi cosa ne pensate di questo Mi 8 Lite io sono Luca Grocco e per te che è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao